Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 tratto chiuso per lavori verso nord tra Vio Amuno Variante e Aglio fino alle 19 di questa sera. Per la mobilità sempre in A1 rallentamenti verso nord tra Firenze Scandicci e Barberino. Fino a 11, due chilometri di coda per incidente tra Pistoia e Prato Est verso Firenze in Fipili rallentamenti per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandicci verso il Capoluogo e in carregiato opposto rallentamenti per cantieri tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Siamo al traffico ferroviario per circolazione perturbata nel nodo di Firenze, il treno 18829 Prato, Firenze e Campo di Marte, quest'oggi è cancellato. I viaggiatori utilizzano il treno 18669, il 18509, il 18489 o il 18833. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane, Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!